Il New York Police Department alla Park to Park 2012. La tradizionale sfida sui 10 chilometri in programma domenica 13 con partenza alle 9 sul lungomare Caracciolo si arricchisce dunque nel segno del gemellaggio Italia-Stati Uniti con la partecipazione della polizia new yorkese accanto alle forze armate italiane. Da venerdì 11 fino a domenica 13 la villa comunale sarà lo scenario di tantissimi eventi, dalle dimostrazioni dei gruppi cinofili delle forze armate, alle esibizioni di Agility Dog, dai maestri della scacchistica partenopea con le sfide in simultanea e la scacchiera gigante ai playground di mini basket. Si esibiranno inoltre la fanfara dei carabinieri e della banda dei vigili del fuoco insieme al vocalist della Nato che eseguiranno gli inni nazionali. Questa è una bellissima iniziativa tutto il fine settimana in particolare domenica una gara podistica tra Napoli e New York con la rappresentanza anche delle nostre istituzioni locali dall'esercito all'arma dei carabinieri della Guardia di Finanza e la Polizia. Un'iniziativa importante sul lungomare liberato, parteciperanno mille persone nella corsa, più tantissime altre che staranno per strada. Abbiamo tantissime richieste verso Napoli, vogliono fare tutti molte cose nella nostra città, in particolare sul lungomare, questo è un segnale molto molto incoraggiante. Il trofeo Interforze realizzato da Lello Esposito sarà assegnato alla squadra vincitrice che lo deterrà fino all'edizione del prossimo anno. Per tutte le informazioni è possibile